Alzo gli occhi al cielo, è il momento mio Tra le stelle, ora aprillo anch'io E sarò, mi spesurro, mi spesurro Dall'Oa di Navarro a Cercola, benvenuti alla nona tappa di Miss Vesuvio 2021 Eccoci, buonasera, buonasera a tutti Ben arrivati, un bel applauso, nona tappa del Tour 2021 di Miss Vesuvio all'Oasi Navarro In quel di Cercola, buonasera a tutti e benvenuti amici Per questa sera avremo ben tre fasce La prima, Miss Vesuvio, Oasi Navarro, Cercola 2021 La vincitrice della tappa entrerà di diritto tra le finaliste di questa edizione Poi avremo la terza finalista di Miss Curvy 2021 E la fascia del nostro partner Massimo De Cesare Miss Creative Star Quindi ne approfitto per ringraziare Massimo e tutto il suo staff Per aver curato il look delle nostre finaliste Ringraziamo anche il nostro official partner Jocelyn Gattomatto, Torre del Greco, rivenditore Jocelyn Prima di conoscere le Miss in gara per questa tappa E' arrivato il momento di presentarvi, come sempre, la nostra giuria Nicola Pinto, il patron di Miss Vesuvio Eleonora Foa, la nostra coreografa Sabrina D'Amore, la nostra inviata sul territorio E Massimo De Cesare, MDC Parrucchieri E' arrivato il momento di presentarvi la regginetta in carica La nostra Miss Vesuvio 2020 Elsa Corvo E la vincitrice della tappa La scorsa tappa dell'IPRG Angry, Nausicaa, Seccareccia Un bel applauso, un bel applauso Momento di presentazione per le nostre Miss in gara Partiamo subito dalla numero uno La prima Miss in gara per questa nona tappa Si chiama Stefania Carrese Conosciamo la seconda Miss in gara Luna Ranucci E poi abbiamo Maria Antonietta Righetti E ancora Maria Battista E Miriam Nesi Abbiamo visto sfilare per la prima volta questa sera Le 5 Miss in gara per la nona tappa del Tour 2021 Momento moda firmato Alma Gioielli a Scafati Sfilano Elsa Corvo, la nostra regginetta E Melissa Anucerino, vincitrice della tappa di Mugnano I am playin' on games Every word that I say is comin' straight from the heart So if you're tryna lay in peace on I'ma leave the door open I'ma leave the door open I'ma leave the door open, girl I'ma leave the door open, girl Let you feel the way I feel And you want me like I want you to love, baby Tell me what you love Well, it's so sweet, so sweet, so tight, so sweet I won't buy, unless you like, if you'm slow I got the haze, and if you're hungry Y'all congrueno Daniela 1963 a Portici, oggettistica, casalinghi, cucina, lista nozze e shop online sul sito daniela1963.com Segui le pagine social per tutte le novità Vuoi vendere tutto ciò che non usi più? Mercatopoli San Giorgio ti aspetta Visita il sito sangiorgioacrimano.mercatopoli.it per scoprire la nostra vetrina online Supermercati il sottocosto, da noi la convenienza è di casa, ti aspettiamo nei due nostri punti vendita Euroriba a Volla, riparazione e vendita al dettaglio di balestre, ammortizzatori, freni, fuselli, tour press, rally host, perni articolazione, invoccolatura, cabina e timoni Euroriba è officina autorizzata agli host Arredamenti Madonna a Portici Progettazione, arredamento, montaggio e assistenza post vendita 50 anni di esperienza nel settore dell'arredamento al servizio della clientela Fatta una pizzica Pumarolo Angop da Strapizzami con i suoi impasti a lunga levitazione e vedrai che il mondo poi ti sorriderà Autoimmagine a Cercola Vendita auto nuove, chilometro zero, stato garantito, noleggio a breve e lungo termine e finanziamenti in sede Vai sul sito autoimmaginesrl.it per tutte le offerte e seguici sulle pagine social Il paradiso in un ruoto, la pizza del panificio Bob ti aspetta a Cercola Fratelli Esposito Trasporti, gruppo tedeschi, carico e scarico container Partenza dal porto di Napoli per tutta Italia La migliore garanzia per il trasporto su strada Termoacustica San Giorgio Acremano Progettazione e realizzazione contro soffittature Isolamento termico ed acustico Parchè prefinito Pavimentazioni Sopraelevati Rilascio certificazioni in pianti elettrici ed idraulici Ed un ampio magazzino di materiale edile Vai sul sito termoacustica.eu per scoprire tutte le novità LG Invest Appalti e costruzioni Costruzioni, adeguamento funzionale e restauro immobili Ristrutturazioni con bonus 50%, 65%, ecosisma bonus 110% Ed inoltre consulenza specializzata, progettazione e renderizzazione 3D Vai sul sito lginvest.it e contattaci Tanti sono i momenti moda da vivere insieme per questa nona tappa del Tour 2021 di Miss Vesuvio In questo caso, qui mai Optical a Cercola Per cui mai sfilano Elsa Corvo, Maria Vittoria Polio, Melissa Nocerino e Nausicaa Seccareccia Vediamo I've always been the one to sign the first goodbye I've had to love the loser I've drowned all in times I've had to get anyone to know just what I am You say my name like I have never heard I've been decisive but this time I know for sure I hope I'm not the only one that feels at all Are you falling? Center of attention, you know you can get whatever you want from me Whenever you want it, baby It's just my reflection I'm afraid of all the things you could do to me If I would've known it, baby I would've stayed at home Cause I was in the middle of the way My bed had blown And though it was the end of it all I should've stayed at home If I would've known it, baby I would've stayed at home Cause I was in the middle of the way I'm afraid of all the things you could do to me I'm afraid of all the things you could do to me I'm afraid of all the things you could do to me To come play that game that you've been in every time Every time I wonder when you go if I stay on my mind To come play that game that you've been in every time Everyone before you were Per Qui Mai Optica alla Cercola Le nostre Miss Prossimo momento moda per Offside Napoli Sfila la nostra regginetta Elsa Corvo Elsa Corvo per Offside Napoli Per Guayone Motors A Trentola, Ducenta Sfilano Elsa Corvo e Maria Vittoria Pollio E sarai per sempre E sarai per sempre La lady La 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 Perché entri in punta ai piedi La 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 Nella mia vita è irregolare Poi verrà Stai Girando la città La luce in punta ai piedi Capirò che sei la mia Lady 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 Non ti piaceva un altro Ma che fine ha fatto Ok che sono bello Ma non chiedi tanto Cosa stai cercando Su quel pilistallo Che che sono alto E che ti tratti bene Ho una proposta sexy da farti Cresciamo insieme Per Guayone Motors Elsa Corvo e Maria Vittoria Pollio Pronti per scoprire Chi sarà la vincitrice Di questa nona tappa Ho qui con me il verdetto Ma prima Come ben sapete Non so se l'ho detto all'inizio La prima fascia Che sarà assegnata E quella di Miss Creative Star Realizzata da Massimo De Cesare Prego Massimo Buonasera a tutti Grazie Massimo Io qui ho il verdetto Però mi sembra giusto Che la vincitrice Della fascia Creative Star La dica tu insomma Allora Miss Creative Star Maria Battista Maria Battista Si aggiudica La fascia di Miss Creative Star Purtroppo nessuno di noi Può sistemarti la fascia Quindi sono lì esposte Miss Vesuvio Curvi Terza finalista Per questa edizione E Qui facciamo incetta di premi Maria Battista Change fascia Puoi fare il cambio fascia Indossi l'altra Ti fai il tuo defilè E via Scopriamo invece Scopriamo invece La notizia di questa Nona tappa Quindi La nona finalista Di questa Tredicesima edizione Miss Vesuvio Oasi Navarro Cercola 2021 È Miriam Nesi Miriam Nesi Entra di diritto Tra le finaliste Di questa edizione Di Miss Vesuvio Ora 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 Apri l'occhio E Sarò Mi Svesuvio Mi Svesuvio Amici Come sempre È stato un piacere Noi ci rivediamo Alla prossima tappa Grazie a tutti Per la cortese Attenzione Ciao Noi ci rivediamo Tra i chi crede sempre in te Nel talento che c'è Quando stringi il coraggio Nei pugni Speranza E tra i chi Fratelli Cosenza Falma Campania Da 40 anni al servizio Dei serramentisti Ufficio tecnico e preventivi Progettazione facciate continue Curvature E profili Fratelli Cosenza Garanzia di serietà Esperienza Ed affidabilità Picano Rent La piattaforma ideale Per il noleggio a lungo termine Di auto, moto e furgoni Per aziende e privati Il tuo noleggio Con anticipo zero RCA Manutenzione ordinaria E straordinaria Soccorso stradale E auto sostitutiva Visita il nostro sito PicanoRent.it PicanoRent Il futuro E a lungo termine Evolution Bike A Casa Pulla È il centro più grande Del sud Italia Per gli amanti del ciclismo Rivenditore autorizzato Scott Trek Bianchi Wheeler Colnago Fanti Clapier Per maggiori informazioni Visita il sito www.evolutionbike.it Leader nel settore Delle macchine Per movimento terra È la Comi SRL A Saviano Rivenditore ufficiale Comatsu Prestiti veloci Mutui, corrate e agevolate Noleggi a lungo e medio termine Promozioni assicurative Tutto questo È Presti Mutuo Presti Mutuo È anche agente in attività finanziarie Per sella Personal Credit Per info Contatta il numero verde 800-865-631 Da Domizia Carni a cellule Puoi trovare un grande assortimento Di preparati pronti a cuocere Salumi artigianali Carni estere di vari tipi E tagli pregiati Domizia Carni È anche consegna a domicilio Tlm Officine Spera Marigliano Da 50 anni al vostro servizio Officina meccatronica Centro revisione auto e moto Impianti GPL E tutto ciò che ti occorre Per la tua auto Nail Store a San Cipriano d'Aversa Non è soltanto nail art Ma anche vendita prodotti E corsi di formazione estetica Per maggiori informazioni E per aggiornamenti sui corsi Visita la nostra pagina Facebook Caseificio Ruggero A Torre Annunziata I maestri casari Della penisola sorrentina Mozzarella Provo La ricotta E tanti altri pregiati Prodotti caseari Per portare a tavola Ogni giorno Bontà Qualità Freschezza E genuinità Vuoi acquistare una barca? Ne possiedi una E non sai dove sostarla? Barracuda Marine Di Giovanni Bottino A Torre del Greco Soddisfa tutte le tue esigenze Barracuda Marine Effettua anche Manutenzione e rimessaggio Per le tue imbarcazioni E vendita di tutti i prodotti nautici E da quest'anno inoltre Puoi usufruire Anche del servizio di noleggio Per la sicurezza del tuo veicolo Scegli varietà gomme a volla E direzione auto a Napoli Rivenditore pneumatici Meccanica Aria condizionata E revisioni Centri convenzionati First Stop Bridgestone E l'esclusivo servizio Mobox A partire da 15 euro al mese Pneumatici top Zero costi in caso di danni E assistenza auto e pneumatici Ferramenta Idraulica Arredo bagno Pittura per interni ed esterni Parati Materiale elettrico La Ferrareccia vi aspetta a Napoli In via Volpicella Con orario continuato La Ferrareccia Qualità Cortesia E professionalità La Ferrareccia vi aspetta a Napoli La Ferrareccia vi aspetta a Napoli In via Volpicella La Ferrareccia vi aspetta a Napoli La Ferrareccia vi aspetta a Napoli Grazie a tutti.